festa in vigna sulla collina venerdì 5 luglio ho vissuto un bel momento appuntamento tra i filari di una splendida vigna posizionata sulla collina di San Marzano di Veto, provincia di Asti. In questa location poco usuale ho trovato tavoli collocati tra i filari, un bar che serviva a vino a volontà refrigerato in un casotto in piemontese denominato Chabot, la cui funzione è il ricovero degli attrezzi agricoli e improvvisamente è stato riciclato per una festa. L'atmosfera da sagra paesana trasferita in vigna mi ha riportata quando ero bambina al contatto con la natura. Mangiare il fritto alla piemontese cucinato dalla Proloco e bere buon vino in compagnia seduta tra i filari è stato bello. A conclusione della serata la strada in collina è stata chiusa al traffico e trasformata in discoteca per balli di tutte le età. Questo tipo di festa a cui anche molti stranieri in visita nelle mie zone hanno partecipato non è certo una novità. Nella storia si è sempre festeggiata la natura e ringraziato per i frutti che essa ci dona. Grazie all'impegno di chi continua a lavorarla con passione e rispetto. Auspico sempre più che si segua il principio dell'ecologia e del biologico e biodinamico per il bene di tutti noi. Ci sarà ad agosto un'altra festa simile per anticipare il ringraziamento per la vendemmia. Tutte queste feste, ferie e vendemmia erano occasione di grandi libagioni e spettacoli, profiziatori e di ringraziamenti alla divinità per le sorti del raccolto futuro.